con l'Istituto Tecnico Turistico Thomas Anguri per l'attivazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro. Sapete già probabilmente di che si tratta, comunque per noi è un motivo per rinnovare un'attività che abbiamo già interpreso insieme e la cosa importante da mettere in evidenza è che non si tratta soltanto di un'attività di accompagnamento da parte degli studenti cioè loro non è che stanno lì a fare i piantoni, diciamo così, nelle sale e a guardare che non si è da nulla, ma hanno anche un ruolo attivo questo è evidente. Loro hanno, per esempio, l'Istituto ha sviluppato una carta digitale di Iperia che è qualcosa di molto interessante, non so se l'avete vista, voi che siete ammessi a usare tutti gli strumenti informatici comunque se l'avete vista andate a vedere e l'avete tutti informati. e poi stanno sviluppando un'app per la fruizione dell'Istituto.